1940 seconda guerra mondiale la francia si arrende alla germania 1976 elezioni politiche sorpasso del pc ai danni della dc 1527 muore niccolò machiavelli commenta il fatto del giorno nunzia vallini direttore del giornale di brescia il cardinal giovane battista montini viene eletto papa con il nome di paolo sesto grazie